Manuel, una delle note più liete di questa giornata, non allegrissima per il Toro. Tu almeno ci hai messo grinta, ci hai messo corsa, invece che cosa non ha funzionato? No, io penso che tutti quanti ci abbiano messo grinta e corsa. Ci è mancato il gol, è dispiaciuto prenderlo al novantesimo, bruciarlo così, perché abbiamo fatto 50-55 minuti nella metà campo dell'Ancona, quindi ci è mancato solo il gol. Siamo stati sfortunati a prenderlo così, io penso che non ha fatto il gol della settimana, ma penso che ha fatto il gol dell'anno, quindi è stato bravo, ci ha provato, è andata bene, ha fatto bene. Però ci è mancato solo il gol, è dispiace perché se non avessimo preso il gol potrebbe portare a casa tre punti pieni, non è stato così e ci dispiace. Le partite casalingue comunque si vede sempre un Toro in affanno, un Toro che fatica a trovare gli spazi per attaccare, come mai? Quando le squadre incontrano il Toro cercano sempre di chiudersi, oggi si è visto in campo, loro sono stati bravi a sfruttare alcune ripartenze, questo sì, perché erano molto organizzati, però non era facile per noi sviluppare il nostro gioco perché loro giocavano 11 dietro la linea della palla e quindi non era semplice trovare le giocate in verticale, cercavamo di girare spesso palla e ci può stare l'errore perché a volte devi anche forzarla la giocata, però siamo stati bravi a tenere il campo e a mantenere la calma riprendendo questa partita che stava andando male. È sembrato comunque che dall'ingresso di Gasbarroni qualcosa sia cambiato, forse è l'unico che in questo momento riesce a saltare l'uomo, riesce a dare più verve alla fase offensiva. Gasbar è entrato in un momento molto delicato della partita, è fondamentale per noi perché come hai detto tu è uno che salta l'uomo, ha grande personalità e crea sempre la superiorità numerica, quindi è molto importante, poi cerca sempre di fare la giocata e quando la fa è sempre pericoloso. Cosa deve fare adesso il Toro per migliorare? Dobbiamo continuare così, migliorarci sicuramente, lavorare duro come facciamo ogni settimana e poi i risultati arriveranno perché ci impegniamo sempre, la qualità c'è, ci manca solo il gol della vittoria, ci è mancato questa sera.